E' arrivato il momento di svappare, svappo me! Il risultato non lo so? Sei tifoso del Napoli? Anche! Anche, che significa? Sono sicuramente in l'Inter e sono tifoso del Napoli! Il risultato? Vincere o vincere il Real Madrid? Vincere il Real Madrid? Sicuro? Sicurissimo! Due gesti per Napoli! Per Napoli? Sì! Voi sei tifoso del Napoli? Sì! Se la puoi giocare perché ha anche le qualità e anche le potenzialità Mando un po' di esperienza internazionale però sicuramente vedremo una bellissima partita! Questa sera gioca il Napoli? Sì! Vincere il Napoli! Io penso che fai una bella partita sicuramente! Ma vincerebbe? No! Io penso che finisce 2-1 pure il Real Madrid! Però va bene il risultato! Ritorno si può rifare! Opa! Sono pareggi! Anzi si segnano l'anno eppure che perdesse il Napoli e segnasse 2-1 non so Basta che segni! Tiene sempre la motivazione di vincere! 5-2-6! Sì! Che cosa ha perduto io? Opa! Risultato mio è 1-0 per Napoli! Ti devo dire la verità! Che a me pure si pareggiare su Napoli è come si allessi vinto! Ti dico proprio sinceramente la situazione! Da Juventino? Da Juventino! Che poi quando viene a Napoli o al Madrid si vede! Fai dicendo una cosa intelligente! Parla sempre di questo Napoli! Ma più che altro! Dite una cosa! In questo paese in modo legale in cui si va avanti! Vedete che tutti quanti stanno parcheggiati sulle strisce pedonali! E la legalità non esiste! I vigili non esistono! I residenti di San Martino, di Montesarchio, di Rotondi! Dice che da domani nel loro paese le cose funzionano meglio! Ah perché a Rotondi e a San Martino poi parcheggiano bene! Ma hanno detto così che queste cose non succedono! Ma ora non c'erano tifosi del Napoli! Sono tifosi della Juventus! Nono no no! Ma scusi un secondo! Ma a me che vinci il Napoli a me fa piacere! Perché poi butta fuori una grande squadra! Secondo me se vinci il Napoli si risolve anche il problema del parcheggio! Speriamo bene! Ma perché che tutte le cose collegate! Guarda! Io mi auguro! Il Napoli farà una bella partita! Una bella figura! Perché li vedo ben caricati! E poi gli ultimi tempi hanno degli ottimi risultati! Per cui la squadra sceglie! Da italiano e da campano speriamo che venga il Napoli! Però sicuramente sarà una partita dura! Il Real Madrid è una squadra fortissima! Ma il Napoli se sa giocare a modo suo! O meglio se il Real Madrid la fa giocare a modo suo! Può darci qualche soddisfazione! Un pronostico! Per me uscirà altro! Che significa altro? Più di cinque gol! Entrambi parti! Esagerato! Quindi se vince il Napoli che succede? Vengono tutti i piatti! La coppa a base! No la moglie! La moglie no perché non ce l'ho la moglie! Però non la potete! Effettivamente poi speriamo che vediamo una bella partita! E abbiamo grosse soddisfazioni perché il Napoli ha campioni, ha la stoffa, ha la qualità di poter vincere tutti! Tiene un bel gioco! Che ci ha perso a dire? Forza Napoli! 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 Forza Napoli!